Siamo a ridosso della Rocca e del Fossato, si stanno terminando e mettendo a punto gli ultimi dettagli. Danilo, allora un impegno importante quest'anno, tutto da una scommessa possiamo dire? Quest'anno nuova location, nuova data, quindi è una cosa nuova anche per noi. Noi ce la stiamo mettendo tutta, sono giorni che lavoriamo per preparare tutto al meglio e cerchiamo di poter offrire uno spettacolo il più bello possibile. Rocca, dentro fuori, giardini, il parcheggio, insomma avete dislocato tutto ciò che c'era nella Pinettina secondo un altro è un concetto diverso ma qui si ritroverà tutto? Beh diciamo che abbiamo cercato di sfruttare quello che la città ci dava, cioè prima di tutto la Rocca che è un bene che la città di Fano ha e secondo noi da un punto di vista storico non sfruttava fino in fondo. E poi tutto il resto abbiamo cercato di trasformare un parcheggio in un'arena, il lavoro chiaramente ce n'è tanto perché da parcheggio all'arena c'è tanto da fare e abbiamo cercato quindi di dare un angolo della città come se una persona si tuffasse nel 1400. Per un avvenimento realmente accaduto come avveniva per il pellegrinaggio anche qui c'è la rievocazione di qualche cosa che è veramente storico e documentato. Grazie alla collaborazione della professoressa Falcioni siamo andati a scartabellare i codici malatestiani e andremo a riprendere una rievocazione storica realmente accaduta che è il matrimonio di Pandolfo III Malatesta con Paola Bianca da Fano che questo avverrà sabato alle sette e mezza al Duomo di Fano e siamo andati a rivedere i vestiti, i personaggi e tutte le persone che erano presenti realmente al tempo. Ma ci sarà naturalmente la gara, la competizione, le contrade che si dovranno giudicare, il drappo e quindi le prove saranno sempre intese in questo senso. Certo, come qualcuno di voi avrà già visto per i quartieri i colori delle varie contrade già iniziano a farsi vedere e come ogni anno si sfideranno nei vari giochi e come ogni anno ci sarà la disfida degli arcieri dal venerdì ci sarà la corsa con i cavalli la domenica e il tutto per aggiudicarsi il palio 2018. Bene, e quindi il palio delle contrade dalla Rocca che vinca il milione. Ah sì, speriamo che vinca il migliore. Arrivalo! No